Siamo arrivati da Merano, oggi una bellissima giornata di sole, ci accoglie sulla terrazza dell'hotel Sitnerhof. Siamo in compagnia della signora Patrizia Brunner, che è la proprietaria dell'hotel. Buongiorno Patrizia. Buongiorno. Allora, quest'anno è stata una primavera tribolata, abbiamo visto che purtroppo il lockdown ha bloccato un po' l'attività, siete partiti in ritardo, ora com'è la situazione? Siamo partiti il 3 luglio, ma adesso sta andando abbastanza bene, ci stiamo riprendendo. L'inizio è stato un po' difficile, ma adesso stanno arrivando tanti clienti italiani, più degli altri anni, invece la clientela straniera è un po' in diminuzione. In diminuzione, so che voi avevate tanti turisti tedeschi, quest'anno sono molto in meno rispetto al passato? Sì, sono molto in meno e soprattutto c'è una clientela più giovane, più famiglie rispetto agli altri anni. Ecco, per quanto riguarda il bonus vacanze, come è la vostra posizione? Noi lo accettiamo volentieri, non c'è nessun problema, perché riteniamo che sia uno strumento valido anche per incentivare un po' la situazione. Incentivare il turismo, certo. Voi avete modificato qualcosa nell'attività per il ricevimento dei clienti? No, abbiamo facilitato un po' la sanificazione, ma anche il check-in, uno può fare il pre-check-in da casa, così non deve aspettare tanto la reception, ma per il resto non ci sono grossi problemi, è rimasto tutto abbastanza semplice. Ecco, qui avete tanti spazi aperti, per cui grandezza, avete la possibilità, i clienti che arrivano di fare escursioni, passeggiate in tutta tranquillità, non ci sono assembramenti ovviamente, no? E come struttura siete anche partner ufficiale delle terme di Merano. Sì, siamo alberghi partner, abbiamo anche delle promozioni, sia per il mese di agosto, diciamo è una bella struttura soprattutto per Merano, quest'anno hanno anche l'anniversario dei 15 anni e stanno facendo anche loro degli incentivi e anche delle concerti e promozioni proprio lì in piazza, degli spettacoli per incentivare. Benissimo Patrizia, allora come vedete un messaggio positivo anche qui da Merano in Alto Adige, Patrizia vogliamo dare i dati per potervi contattare, eventualmente effettuare una prenotazione? Certo, volentieri, potete chiamarci al numero di telefono 0473 446331 oppure inviateci un'e-mail a info-sytnerhof.it. Benissimo, allora da Merano, Patrizia Bruner e l'hotel Sytnerhof vi aspettano, buona estate a tutti! Buona estate!